La lista degli artisti, piccoli e grandi del Valdacragas, i fiori del mandorlo, Gergent, Kerkent, i picciotti da Purtedda, casa del musical che farà i suoi flash mob, sul palco in piazza stazione e poi c'è i Tammura di Girgenti, in piazza stazione invece Marco Catalano, Quartet Folk, i Dioscuri, Tom Sinatra, Icamurria, Stefania Bruno, Riccardo Gazz, Silvio Schembri, Lello Analfino, i nomadi, presenta Barbara Capucci e Marco Savatteri. Un ringraziamento sentito a tutti gli artisti, evidentemente agrigentini e agli sponsor che sono intervenuti, perché come voi sapete è un'operazione a costo totalmente zero per il comune di Agrigento, non avendo evidentemente le risorse per poter approntare manifestazioni di questo tenore.